bene direi che a questo punto siamo in live quindi bentornati su parresia se mesi fa avete apprezzato la live inerente alla storia dell'esercito romano in età repubblicana con ospiti joel di europa antiqua e il professor giovanni brizzi inoltre proprio in quell'occasione avete chiesto a gran voce piastone breccia diciamo che in qualche modo spero di avervi accontentati oggi infatti parleremo dell'esercito romano nell'età imperiale e tardo antica con giuseppe cascarino e per l'appunto gastone breccia che ringrazio molto per la loro disponibilità buonasera a tutti buonasera e grazie a te dell'invito buonasera grazie ancora dell'invito buonasera ora partiamo dal presupposto che c'è stato una sorta di guaio tecnico quindi spero che gastone in questo momento stia bene perché ha questo diciamo abitudine di farsi la barba con un macete e quindi insomma aveva iniziato a stillare sangue ovunque e adesso diciamo che la tragedia è rientrata detto questa parte abbastanza splatter diciamo del tutto partirei a questo punto direttamente con la live e partirei da te giuseppe perché vorrei come primo blocco diciamo così andare su un po la parte imperiale ecco di questo periodo enorme che tratteremo anzi questi due periodi enormi che tratteremo e la parte diciamo più centrale forse quindi dagli inizi da augusto fino a quello che sarebbe un po un una sorta di imperatore d'eccezione dal punto di vista militare cioè con traiano poi ci spiegherai magari anche il perché quindi la grande strategia dell'impero romano ecco da augusto a traiano parti pure tu giuseppe dice un po sì beh il tema è veramente di un'ampiezza tale da far tremare i volsi cioè affrontarla in una discussione di un'ora un'ora e mezza direi che può sembrare riduttivo però alcune conclusioni le possiamo le possiamo trarre e anzitutto l'epoca imperiale non a caso parte da augusto perché augusto è un grande riformatore di numerose di numerosi aspetti di quello che era il mondo romano dell'epoca e anche dell'esercito ricordiamo che augusto crea di fatto questo impero alla fine di guerre civili molto lunghe e dolorose per roma e per cui si trova fatalmente inevitabilmente nella necessità di ricostituire l'esercito romano e di stabilire anche quella grande strategia di cui si è parlato cioè cosa fare con un impero tanto vasto e come organizzare le forze armate e augusto la prima la prima cosa che mette in atto è la riduzione delle legioni che alla fine delle guerre civili erano addirittura oltre 60 pensate se c'erano 60 legioni le riduce smobilita tutta questa massa enorme di soldati di uomini e riduce il numero a 28 28 legioni che poi diventeranno 25 perché lui perderà le tre legioni a teutoburgo eh cosa che ovviamente gli porterà un enorme un enorme dispiacere però da allora si diciamo che poi frizioni con varo vogliamo dire dire lì poi si apre tutto un tutto un mondo eh magari oggetto è oggetto di una trattazione a parte però eh sicuramente per lui teutoburgo costituisce un punto di riflessione di svolta nel senso che eh decide da allora di stabilire quelli che saranno i confini dell'impero romano per il futuro e infatti così sarà per secoli e cioè sostanzialmente le frontiere del Reno e del Danubio in Europa e la frontiera dell'eufrate va bene poi questa si eh chiarificherà col tempo ma in buona sostanza sarà la frontiera col regno dei parti ad oriente e stabilisce appunto il numero di ventotto che poi diventano venticinque lui non reintegrerà più le tre legioni perse a teutoburgo e legioni che verranno stanziate lungo il confine lungo i confini da lui stabiliti con la eh raccomandazione ai suoi successori di non superare questi confini raccomandazione che verrà eh in effetti eh osservata a cominciare da Tiberio eh ci saranno delle delle eccezioni eh l'impero si estenderà ancora per esempio in Britannia perché sarà Claudio Claudio a invadere la Britannia Traiano alla fine eh invaderà la Dacia quindi amplierà queste questi confini territoriali però anche Traiano portò le legioni a trenta quindi non di più e se pensiamo anche al numero delle legioni che verranno negli anni successivi nei secoli successivi non si discosteranno molto da questo da questo numero ecco infatti scusa se ti interrompo Giuseppe qua proprio ci chiedono dopo la conquista di Bretagna e Dacia le legioni non sarebbero poi aumentate eh di numero? Aumenteranno per esempio con Settimio Severo eh e con diciamo diversi imperatori ma non molto oltre al numero di trenta diventeranno trentadue trentaquattro poi a quel punto il cambio delle legioni eh il cambio del numero delle legioni interviene poco sulla strategia complessiva dell'impero quindi eh quindi ecco quello che in effetti appare evidente è che i confini rimangono più o meno cristallizzati eh avviene una riforma anche all'interno proprio della della struttura delle legioni o perlomeno viene cristallizzata una eh una organizzazione che poi continuerà ancora per secoli fino al tardo impero e quindi si avrà una legione che è comandata da un eh incaricato che infatti si chiamerà legatus legatus eh proprietore cioè un un incaricato diretto diretto di Augusto che appartiene alla classe senatoriale che comanderà un'unità che si chiama legione che è formata da dieci corti da dieci corti ognuna delle quali è composta da sei centurie quindi in totale ehm quattromila eh ottocento uomini eh più il lo stato maggiore il diciamo le 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 eh una liquida di cavalleria eccetera quindi possiamo tranquillamente definire la legione come unità di cinquemila uomini eh oltre a questa eh diciamo mh decisione che viene uniformata in tutto l'esercito ehm Augusto ne eh prende anche un'altra e cioè quella di eh includere nella struttura dell'esercito romano anche le truppe ausiliarie che erano le truppe eh utilizzate fino a fino ad Augusto in modo abbastanza precario disorganizzato invece Augusto le inserisce direttamente nell'esercito con un'organizzazione sua particolare con comandanti nella maggior parte dei casi romani eh le truppe ausiliarie vengono organizzate in corti non in legioni ma in corti in corti di tipo etnico cioè tutte le eh popolazioni tributarie dei romani forniscono forniscono eh eh all'esercito dei reparti delle corti di circa cinquecento uomini comandate da un prefetto romano questa sarà alla fine la struttura base in un numero praticamente equivalente a quello delle legioni quindi avremo un esercito romano composto da due anime le legioni da una parte e le truppe ausiliarie dall'altra che hanno una consistenza numerica praticamente equivalente e noi lo vedremo in tutte le battaglie in tutte le eh spedizioni in tutte le tutti i movimenti del tercito romano ci saranno queste due questi due aspetti queste due forze eh noi conosciamo bene eh il come dire eh la parte eh più classica delle legioni eh però eh sappiamo anche che le truppe ausiliarie fecero una importante eh svolse un'importante funzione eh mi sentite? Sì sì continua. Ecco no vi ho perso avevo perso. No ci sentiamo perfettamente. Eh le truppe ausiliarie svolsero un'importante funzione militare spesso non considerata dagli storici sottostimata ma che in alcuni momenti in alcuni momenti anche importanti di battaglia furono furono decisamente importanti decisive anzi. Eh ecco nell'immagine che hai proiettato vediamo le corti in schieramento quasi di battaglia vedete da destra a sinistra perché eh per antica tradizione guerresca la l'unità più forte le unità più forti si schierano a destra questo perché eh essenzialmente il per il fatto che lo scudo si porta con la mano sinistra e quindi c'è un piccolo effetto di eh come dire di piegamento verso sinistra per proteggersi e per cui se non si ha una destra forte eh lo schieramento tende a diciamo a piegarsi su se stesso quindi questa è un'antica tradizione la eh unità più forte sta sulla destra le altre unità ugualmente ritenute forti vengono poste a sinistra e al centro quindi da un punto di vista eh eh come dire eh di schieramento ecco poi scusa se ecco se torni perfetto eh vedete la prima corte non è uguale alle altre perché è ritenuta superiore sia in valore che in numero e quindi è composta non da cinquecento uomini da quattrocentottanta uomini come per le altre corti ma da ottocento cioè da cinque centurie rafforzate non più di ottanta uomini ma di centosessanta e il comandante è anche il primus pilus comandante di questa di questa corte che è il centurione più anziano e più ritenuto il più importante il più valoroso questa organizzazione andrà avanti per molti secoli poi lo vedremo quando eh Gastone magari parlerà dell'esercito tardo antico eh ma il nome legione l'organizzazione coortale ehm sarà la base della della gestione sia in battaglia sia nell'organizzazione generale dell'esercito romano ecco poi visto che hai messo anche le le slide successive possiamo commentarle ecco questo è vedete in alto è più o meno un esempio di come si muoveva eh una un esercito romano in un teatro di battaglia sopra in alto vedete l'andamento di marcia in basso lo schieramento di battaglia eh lo schieramento di marcia era ehm progettato era previsto in modo tale che si potesse arrivare allo schieramento nel più rapido nel più breve tempo possibile ogni ogni colonna di marcia che comprendeva eh legioni eh truppa ausiliari e reparti di cavalleria vedeva un'aliquota di cavalleria in testa questo ce lo descrivono diversi autori uno dei più vividi è Giuseppe Flavio che descrive la lo schieramento delle delle legioni di Vespasiano quindi ala di cavalleria in testa eh reparto di eh ausiliari eh e poi le legioni subito dopo i bagagli i cosiddetti impedimenta e una legione in coda se le legioni erano quattro ovviamente poi tutto era proporzionale eh assistita sempre da reparti di cavalleria d'ali di cavalleria quindi nel momento di schierarsi in battaglia eh vedete lo schema sotto le legioni si schieravano in linea di solito gli ausiliari prendevano le posizioni eh ai lati insieme alla cavalleria in maniera tale da proteggere il il diciamo i bagagli gli impedimenta e comunque tenere sempre una riserva vedete una legione di scorta di riserva in coda questo è un tipo di di approccio alla battaglia che ci descrive anche con una certa chiarezza Cesare Cesare eh è forse il primo che eh ripone una grandissima fiducia nelle riserve che spesso gli fanno vincere delle battaglie critiche come quella contro i Germani ad esempio contro Ario visto lui schiera eh schiera su tre linee su tre linee legioni la terza linea la tiene di riserva e e fa bene perché nel momento in cui cambia lo scenario lui sposta semplicemente la terza linea eh per attaccare il fianco il fianco del nemico e cosa che lo porta poi che lo porta alla vittoria ehm guarda è veramente generico eh comunque poi ovviamente intervengono tutte le varie le varie eh come dire varianti possibili Giuseppe guarda ascolta ci chiedono ehm dato che sei parlato o meglio hai parlato di eh anche il reparto di cavalleria quanto era importante in età imperiale questo reparto di cavalleria perché eh il nostro scordato dice noto nelle legioni di quel tempo una netta preponderanza della fanteria esatto esatto questo è vero nel senso che non perché ci fossero meno forze di cavalleria ma ce n'erano di meno romane cioè i romani per lunga tradizione non sono mai stati dei grandi cavalieri si sono sempre affidati in epoca repubblicana ai soci ai soci italici poi agli alleati che fossero gallici o germanici io ricordo che Cesare a un certo punto prima della battaglia di Alesia toglie i cavalli ai suoi tribuni per darli ai germani e come a dire guardate voi a cavallo non ci sapete andare lasciate stare date i cavalli a chi a chi a chi gli sa usare e quindi ehm è chiaro che non si fida molto della cavalleria romana che comunque era di scarso di scarso peso pensate che nelle legioni romani fino all'epoca di Traiano e anche oltre la cavalleria era una liquida di cento cavalieri che però servivano più che altro per portare gli ordini per per svolgere piccoli incarichi i romani non hanno mai avuto una forza propria di cavalleria nelle legioni mentre invece confidavano nell'apporto degli alleati che era anche molto consistente quindi adesso vedete questo schema lo schema è generico le ale che vedete le ale di cavalleria sono eh di alleati sono di alleati o in epoca imperiale quando si consolida la riforma augustea di eh reparti ausiliari perché la cavalleria la cavalleria è sempre ausiliaria che potevano essere di eh una corte diciamo un'ala quingenaria cioè di cinquecento uomini oppure miliaria di mille uomini quindi molto consistente ma sempre quindi non mai romani ma di altri popoli che fornivano i loro contingenti la cosa cambierà poi successivamente eh con il Tardo Impero perché aumenterà l'importanza della cavalleria e allora si formarono come per esempio nel caso di Gallieno veri e propri eserciti eserciti di cavalleria però la fanteria rimase sempre eh determinante e importante non non perse mai l'importanza ecco qui nella nell'immagine che hai messo questo è lo schieramento di battaglia eh di Idistaviso e qui qualcuno sicuramente si sentirà percorrere la schiena ad un brivido di orgoglio no? Perché vabbè dopo Teutoburgo gliele abbiamo restituite no? E quindi questo è lo schieramento romano di Germanico che nella battaglia di Idistaviso contro i Germani schiera vedete in modo direi abbastanza eh originale in prima linea gli auxilia i reparti ausiliari inframmezzati poi da una fila di legioni lui ha otto legioni addirittura un schieramento molto consistente eh la solita cavalleria alle ali e vedete che lo schieramento è simmetrico perché lui schiera altrettante legioni alle spalle perché ovviamente lui non vuole fare la fine di Varo eh non vuole correre rischi vedete uno schieramento perfettamente simmetrico in cui però gli ausiliari prendono le prime file vedete che c'è un certo cambiamento rispetto alla come dire allo schieramento classico che vedono le legioni in prima fila e gli ausiliari ai lati no? Tanto per dare un po' di sostegno si comincia a dare in epoca imperiale quindi da Augusto in poi e qui siamo Germanico Augusto è ancora vivo eh ma per poco e siamo in epoca di Tiberio essenzialmente era Tiberio l'imperatore no infatti ho detto una sciocchezza Augusto era morto era morto da qualche anno e l'imperatore di Tiberio però vedete che già si comincia eh intravedere una eh impostazione diversa da quella classica quindi non sono più le legioni in prima fila ma ci sono gli ausiliari perché questo? Perché nel frattempo gli ausiliari migliorano le loro capacità e non solo svolgono funzioni di eh fanteria leggera come era prima come sempre stato ma cominciano a svolgere funzioni anche di fanteria pesante infatti poi lo vedremo se se ne occuperà Gastone vedremo che anche neanche cento anni dopo vedremo ancora un caso in cui gli ausiliari sono in prima fila e non dico che fanno la battaglia ma ma lasciano alle legioni solamente eh le briciole quasi ecco questo tanto per tornare al discorso di prima è uno schieramento classico vedete prima la prima corte a destra le altre corti ritenute più forte e cioè la quinta la decima la e la sesta ai lati poi in ordine eh di rango al centro la terza e l'ottava e le altre poi in mezzo ecco questo è un po' lo schieramento classico delle legioni però come abbiamo detto questa cosa eh viene un po' a cadere col tempo nel senso che schieramenti in cui legioni affrontano direttamente frontalmente il nemico eh sono sempre più frequenti casi in cui ci si avvale delle altre dell'altra anima dell'altra faccia del cielo dell'esercito romano che sono le le truppe ausiliari Gastone se vuoi aggiungere qualcosa io ho preso appunti quando parla Giuseppe insomma imparo un sacco di cose ho preso un po' di appunti ho qualcosa da aggiungere in effetti alla sulla grande strategia concordo su tutto e direi che senz'altro Teutoburgo è il momento di svolta in cui Augusto si rende conto che quella che era già una sua politica di eh diciamo definizione dello spazio romano da difendere beh a questo punto diventa una necessità no eh prima di Teutoburgo è una scelta un diciamo libera dettata dal dal buon senso dopo Teutoburgo diventa una necessità perché venticinque legioni sono poche per difendere l'intero spazio romano quindi è giusto considerarla un momento di svolta è giusto considerare Traiano un po' un un unicum in un certo senso cioè è un imperatore che intraprende una guerra oltre il confine oltre il Limes importante anzi due guerre d'Aci che insomma ed è senz'altro la più importante aggiunta al vecchio spazio romano no quindi è una un'eccezione che conferma però la regola direi di una strategia eminentemente difensiva no conservativa e aggiungo una cosa che sicuramente è interessante citare e che viene di solito dimenticata cioè che un'altra aggiunta al territorio imperiale è quella degli agri decumates che avviene nella tardi periodo flaviano ma è un'aggiunta concepita per migliorare la difesa dell'impero non per così aggiungere gloria e altri popoli no all'impero è fatta proprio per eliminare per accorciare in sostanza la linea difensiva no perché se adesso non ho una una cartina ma è facile qualsiasi cartina d'Europa se voi seguite il corso del Reno fino alla sorgente il corso del Danubio fino alla sorgente quasi si incontrano però i chilometri per percorrere due fiumi sono tanti se voi tagliate a una certa distanza una ottantina novantina di chilometri dall'alto Reno all'alto Danubio e create praticamente una una barriera fortificata unendo i due fiumi risparmiate tanti chilometri di limes è una razionalizzazione della linea difensiva solo ottime conoscenze geografiche dimostra una una capacità di razionalizzare la difesa dell'impero che è eccezionale poi chiaramente verranno mantenuti per un secolo e mezzo se non erro adesso non vi so dare una data precisa ma l'occupazione romana di questa parte della Germania inferiore Germania superiore anzi scusate nella superior dura un secolo e mezzo più o meno dopo di che abbandonata proprio per la difficoltà di mantenere queste posizioni in una zona abbastanza impervia boscosa quindi dove non era non era semplice difendersi però ecco mi faceva piacere sottolinearlo perché quando ragioniamo di grande strategia dell'impero è giustissimo partire da Augusto iniziare a individuare questa postura diciamo così difensiva che si manifesta anche in età flaviana nell'acquisizione degli Agdecumates appunto Traiano sarà tutto sommato un'eccezione e comunque io direi la sua guerra in Dacia è una guerra per distruggere un potenziale nemico esterno che poteva creare problemi al di qua del Danubio insomma non è tanto una conquista ancora per espandere chissà fino a dove il mondo romano è per distruggere un nemico esterno che stava già creando problemi mentre il grande il fronte più più pericoloso quello dove veramente i romani per secoli fino ad eraclio insomma dovranno impegnarsi è quello mesopotamico lì veramente si scontrano contro un'altra grande potenza prima i parti poi i sassanidi però una potenza in grado di tenere testa a Roma e lì si giocano veramente no le grandi le grandi battaglie lì si avvengono le grandi battaglie contro un nemico che può davvero costituire un'alternativa anche dal punto di vista della civiltà quella romana i barbari in fondo sono dei dei rompiscatole che fanno grossi danni ma non vengono mai percepiti come una minaccia culturale dal punto di vista del termine utile termine cultura nel senso germanico della cultura e invece i persiani sì i parti e poi i sassani sono davvero l'altro grande l'altra grande potenza che può mettere a rischio l'impero come come concezione no di una di un dominio ecumenico quindi è lì che si giocano poi veramente le le partite più impegnative diciamo così anche qui cioè mi ricollego a qualcosa che ha già detto benissimo Giuseppe però questo equilibrio che si crea tra auxilia e legioni è equilibrio numerico circa 150 mila e 150 mila no se non erro correggimi Giuseppe se che si crea appunto nel corso del primo secolo ed è veramente anche qui da sottolineare che via via si differenziano i compiti di queste due parti fondamentali dell'esercito imperiale perché come hai detto giustamente Giuseppe gli ausiliari sono quelli che sempre più combattono in prima linea io non conoscevo lo schieramento di germanico interessantissimo che già li mette in prima linea lui quello a cui facevi già riferimento due la battaglia del monte grau più al most grau più su dove veramente agricola mette soltanto le sei corti di germani di batavi e tungri se non erro le mette in prima linea le legioni le tiene indietro probabilmente perché ha paura che ci possano essere altri contingenti eh nemici che possano arrivare e sorprendere non non è convinto di avere davanti a sé tutti i nemici quindi le legioni giustamente le tiene in riserva ma di fatto i primi che devono versare il sangue per Roma non sono più i legionari ma sono gli ausiliari ben pagati per per farlo bravissimi perché questi fanti appunto germanici armati come legionari erraticamente quindi hanno non solo le armi ma le tecniche di combattimento ormai dei legionari questo è importante beh si comportano sul campo almeno in quel caso al most grau più si comportano come dei combattenti eccezionali insomma spazzano via senza senza pietà questi poveri guerrieri scozzesi che sono valorosi entusiasti ma non sono in grado di reggere l'urto con le le corti degli ausiliari romani quindi questa differenziazione gli ausiliari combattono sempre di più e legionari che fanno allora alle loro spalle perché certo fanno la riserva tattica sul campo di battaglia e se c'è bisogno intervengono ma in generale nelle guerre di roma e nel dominio che roma esercita sul suo spazio questa è una cosa che secondo me è molto importante sottolineare diventano sempre più quelli incaricati di controllare e trasformare il territorio sotto dominazione romana che cosa significa controllarlo è evidente ci sono le grandi basi legionari e dei grandi che si trasformano poi in grandi città europee insomma nel corso dei secoli e dei millenni quindi sono veramente i protagonisti anche della romanizzazione d'europa sono i legionari perché dove si insedia una legione come diceva giuseppe sono 45 mila uomini che poi mettono su famiglia che poi insomma no quando vanno in congedo molto spesso si stabiliscono vicino al loro accampamento quindi creano veramente un tessuto di civiltà romana ma non fanno solo questo non fanno soltanto le guarnigioni non svolgono solo servizio di guarnigione quando sono impegnati in operazioni militari trasformano il territorio ovvero disboscano prosciugano paludi costruiscono strade costruiscono ponti sono una sorta di mano d'opera specializzata al servizio di roma che è fondamentale per garantire consolidare il dominio di roma sulle regioni conquistate anche da dal da secoli in certi casi non soltanto quelle nuovissime come la da dacia sotto traiano quindi sono veramente gli operai dell'impero i veri costruttori dell'impero ecco direi diventano tra primo e secondo secolo poi nell'età dell'anarchia militare insomma le cose si complicano le fonti purtroppo sono meno meno chiare però direi che anche se si studiano le le iscrizioni insomma no se le iscrizioni militari o i diplomi militari dove si congedano i legionari molto spesso si può ricostruire no attraverso la la carriera dei legionari dei centurioni questa loro funzione di presidio e costruzione dell'impero proprio benissimo allora io ho fatto passare nel frattempo qualche altra immagine e abbiamo visto adesso ve la ve la rimetto qua a schermo abbiamo visto qua la postura del soldato romano e poi in realtà abbiamo visto anche qua ecco come effettivamente qua è una vista dall'alto come venivano posizionati dici pure se vuoi aggiungere qualcosa anche quello che ha detto gastone ovviamente no no assolutamente qui magari entriamo più nel dettaglio tecnico no come combattevano i legionari romani ovviamente tutto dipende dal periodo no in epoca repubblicana sicuramente il legionario romano combatte in modo più libero in modo più sciolto anche l'arma che il famoso gladius ispaniensis è un'arma che è un'arma di derivazione celtibera no quindi quasi gallica è un'arma molto lunga la vedete in alto vedete con la lettera a quella è quello è il profilo di un tipico gladius ispaniensis un'arma piuttosto lunga e la stessa arma che come ci riportano Livio e Polibio spaventa a morte i macedoni perché vedono gli effetti che questa terribile arma produce sui loro sui loro combattenti quindi un'arma capace di tagliare braccia test e quindi di spaventare in partenza il nemico perché vede gli effetti di questa arma terribile che è un'arma a doppio taglio con una punta vedete molto cattiva molto molto acuta e che richiede anche una discreta forza per essere per essere maneggiata è un'arma che richiede anche un certo spazio per poterla utilizzare che è quello che stando a Polibio è lo spazio che serve al guerriero eh repubblicano repubblicano tardo repubblicano con il tempo con la necessità di affrontare nemici molto organizzati in schieramento come avviene per esempio con con i galli e con i germani i germani in particolare sono soliti affrontare i nemici in blocco no formando una specie di cuneo eh nasce la necessità di formare una consistenza più netta della forza che si oppone al nemico quindi ehm come dire serrare le fila e e combattere a più stretto contatto questo richiede quindi non più una spada lunga ma una spada corta che è poi il famoso gladio il famoso gladio che avrà varie 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 forme questa ecco ecco torniamo un attimo vedete B e C vedete nel con il carattere B vedete il profilo di un gladio che compare intorno eh alla fine alla fine del del primo secolo avanti Cristo e viene viene chiamato Mainz perché viene trovato in numerosi esemplari a Mainz vedete una lama un po' a foglia eh anche questo è un gladio molto pesante ma decisamente più corto e più sotto vedete il profilo classico del gladio cosiddetto Pompei Pompei perché fu trovato in pratica sotto lo scheletro di un poveraccio che scappava dall'eruzione del Vesuvio e evidentemente spoiler alert non ci è riuscito tra l'altro la cosa divertente è che è venuta fuori tempo fa tutta una storia per dire ecco non hanno trovato i resti di un di un soccorritore di un soccorritore che andava lì a prestare aiuto all'eruzione del Vesuvio in realtà molto probabilmente questo signore era era un saccheggiatore è un saccheggiatore perché non dicono che oltre al gladio gli hanno trovato un sacchetto pieno di monete d'oro e degli attrezzi da scasso quindi diciamo ecco un saccheggiatore sfortunato comunque da allora questa spada si chiama Pompei è una spada molto corta e poco più lunga di un pugnale che è quella che serve per colpire quando si è a contatto di gomito scudo contro scudo contro un nemico molto pesante virulento come potevano essere i germani cosa che porta anche a migliorare la protezione la corazzatura infatti non a caso in quel periodo prendono piede le cosiddette per usare un termine moderno loriche segmentate cioè queste loriche fatte da fasce di ferro che avvolgono non solamente il come dire il tronco ma proteggono soprattutto le spalle perché sono le parti più come dire suscettibili di essere colpite in uno schieramento compatto vedete ecco questa è questa qui spero di avere questa è la lorica segmentata corbridge cosiddetta poi gli inglesi si divertono a dare un nome una categoria un tipo una specie a tutto quello che trovano in realtà poi la realtà è molto più più vasta non esistevano fabbriche no e queste erano opere di artigiani quindi ognuno ognuno la faceva a modo suo non esistono in tutto il mondo romano non esistono due gladi uguali due corazze uguali due gli uguali quindi ecco c'è da tenere presente che il concerto di standard non esisteva all'epoca ecco vedete questa è una classica corazza cosiddetta lorica segmentata che prende piede verso la fine del primo secolo avanti cristo e viene rappresentata abbastanza spesso nell'iconografia romana tanto che nella colonna traiana servirà a identificare il legionario per distinguerlo dal l'ausiliario che invece veste una semplice corazza danelli ecco quindi servirà più che altro come mezzo propagandistico e durerà un paio di secoli non di più perché è una corazza io vi assicuro io l'ho indossata qualche volta non lo farò mai più perché è una vera e propria tortura anche se per essere funzionale deve essere fatta su misura quindi è molto costosa e anche difficile da mantenere però è ingrassare giuseppe i legionari poi se la facevano dovevano restare in linea ah sì sì certo poi è estremamente estremamente dispendiosa da tenere poi soprattutto ecco non è non è adatta per chi ha un filo di pancia no chi non è perfettamente in forma anzi si combatte malissimo magari un'altra volta vi racconterò io una volta mi sono trovato di fronte in una in un episodio di un evento di rievocazione una donna con la lorica segmentata e io ho provato grande pietà per questa ragazza vabbè comunque serve a dire che era una lorica creata per proteggersi meglio possibile dai colpi soprattutto che provenivano dall'alto è vero che esiste meglio le frecce però questa corazza è stata trovata in nella stragrande delle eh maggioranza dei casi a nord sui fronti in cui la freccia non era un metodo molto diffuso mentre invece ne è stata trovata quasi nessuna sul fronte orientale dove eh per antica tradizione i parti gli orientali in genere ricorrevano molto alle frecce quindi mh è un po' debole l'idea che sia stata creata per diciamo eh ripararsi eh dalle frecce tanto più che scompare attorno al terzo secolo proprio in un periodo in cui l'uso della freccia dell'arceria anche quella a cavallo acquista una sempre maggiore importanza nel impero romano d'oriente eh il legionario romano è soprattutto un arciere sarà soprattutto un arciere quindi eh però la lorica segmentata non non si trova più come mai quindi è evidente che le ragioni erano altre eh dimmi ci chiedono eh se era vero che le lamine di queste corazze venivano date separatamente e poi assemblate per poter adattare al meglio eh adattare meglio al al legionario al determinato legionario è vero? Allora anzitutto l'esercito romano non dà niente a nessuno per definizione eh vedremo poi nel tempo nei secoli eh del diciamo del dell'impero eh che il il materiale militare viene fornito al soldato dietro pagamento a rate del controvalore quindi la vecchia regola di servio Tullio per cui il soldato romano si deve armare ed equipaggiare da sua a sue spese rimarrà valida per tutta la storia dell'impero dell'impero fino alla caduta fino al 1452 quindi eh su questo bisogna essere quindi non viene dato nulla eh la corazza deve essere fatta dal comprata realizzata dal soldato dal singolo e e chiaramente essendo così delicata e così tecnologica questa corazza deve essere fatta su misura quindi cosa succedeva? Il soldato andava dal fabbro gli diceva fammi una lorica segmentata come dal sarto e gli faceva eh prendeva le misure. Uno dei motivi per cui questa corazza scompare secondo me è anche il fatto che quando eh prendono piede le fabbriche di stato il che avviene sicuramente in età precedente a Diocleziano poi diventeranno una norma no? Ma sicuramente durante durante l'anarchia militare succede qualcosa poi magari ne potremo anche parlare beh una fabbrica di stato non può fare corazze segmentate impossibile perché devono essere fatte su misura quindi e questo è uno dei motivi per cui anche la cora la lorica segmentata scompare non viene più non viene più praticamente adottata perché le fabbriche di stato non sono in grado di fare loriche eh come dire eh regolabili ecco quindi quindi questo è uno uno dei motivi per cui non non compare più però quando finché il legionario romano è abbastanza eh come dire benestante da potersi eh diciamo così permettere delle di comprare degli armamenti eh esiste un periodo quindi primo secondo secolo in cui è abbastanza diffusa quindi non è un armamento come tutti gli armamenti romani non è un armamento di ordinanza per usare un termine moderno non esiste nel mondo romano l'ordinanza e non esisteva neanche un ufficio tecnico un ufficio eh studi che diceva guardate ragazzi dopo il disastro di carre no per dire dove dove i romani furono bersagliati dalle frecce le parti abbiamo deciso tutti con la lorica segmentata no eh questo è un errore dettato dalla eh spesso indebita dall'indebito accostamento con una mentalità moderna che nel mondo antico non esisteva. Allora Giuseppe intanto qua eh dico per la chat faccio vedere eh degli esempi di eh gradium a meglio gradi che abbiamo eh spiegato poc'anzi e poi eh sempre un'altra domanda per te da parte della chat ci chiedono l'origine della lorica segmentata per poi e poi passeremo al prossimo topic eh dando anche la parola ovviamente a Gastone prego. Allora telegraficamente eh l'origine non la si conosce esattamente è una è una forma di armamento che è antichissima perché risale addirittura risale e viene dall'Oriente eh dove però non viene utilizzata in modo eh diffuso dall'Oriente addirittura risale al primo secondo millennio avanti Cristo ci sono delle rappresentazioni di guerrieri che combattono su delle specie di bighe protetti da un tipo di corazza che assomiglia molto a questa però poi non se ne hanno eh non se ha non si ha notizia di questo genere fino alla sua comparsa con l'esercito romano tanto che non si conosce neanche il suo nome effettivo perché l'orica segmentata è una eh definizione moderna data dagli inglesi che sono bravissimi a studiare tutti i minimi dettagli tutti i rivetti eh questa cosa qui ecco però ehm noi sappiamo solo che quelle lamine di ferro per l'appunto si chiamavano lamine lamina e lamine eh e non sappiamo altro benissimo allora io passerei oltre ehm e siamo arrivati a Traiano e facciamo un altro brevissimo se così ci può dire excursus da Traiano fino a Diocleziano il dominato e di fatto la tetrarchia quindi iniziamo ad entrare fondamentalmente verso un po' eh argomenti più tuoi anche eh Gastone e quindi magari magari ecco se riusciamo anche a eh dare qualche eh spiegazione in più per quanto riguarda anche le tecniche di assedio volendo eh che poi verranno anche approfondite più tardi eh sarebbe fenomenale Gastone ecco allora io mi no mi ricollego una cosa che ha detto Giuseppe ma che serve a introdurre questo questo grosso periodo questo lungo periodo che va diciamo da Traiano poi a Costantino insomma Diocleziano Costantino una tendenza visto insomma che abbiamo un tempo limitato quindi è bene secondo me dare no delle delle idee forti no cercare di una tendenza che è chiarissima che ha già ha già fatto Ceno Giuseppe è quello alla chiusura dello schieramento no cioè le legioni tendono e gli ausiliari specularmente a combattere in ordine più più chiuso eh direi che la fonte più famosa più celebre a questo riguardo è lo schieramento contro gli alani di Ariano che è pone problemi interpretativi perché uno li può dire vabbè ma in quel caso è una uno schieramento a falange diciamo così perché è specificamente concepito per affrontare una carica di cavalleria pesante ed è vero ci mancherebbe però eh senz'altro c'è una tendenza verso la chiusura dello schieramento e quindi verso il lasciare meno spazio al singolo combattente come diceva Giuseppe per eh duellare diciamo così passatemi il termine no si combatte più eh in in ordine più chiuso più serrato poi si passerà allo scudo rotondo quindi si abbandonerà il vecchio scudo rettangolare del legionario per lo scudo rotondo che è più adatto appunto all'ordine chiuso e si va verso quindi una forma di combattimento dove ogni singolo eh legionario o ausiliario in realtà ha meno spazio per destreggiarsi insomma questo dal punto di vista della tecnica di combattimento è molto importante dal punto di vista della grande strategia io direi che eh purtroppo lo so che l'ho già detto prima ma ci torno purtroppo il la situazione delle delle fonti eh dopo l'età degli Antonini è eh critica per cui non sempre abbiamo possiamo ricostruire davvero la grande strategia dell'impero quello che sembra di poter dire è che prevale eh l'idea eh di difendere lo spazio romano appunto no senza andare a cercare avventure e guai all'esterno con la complicazione creata dalla frequenza delle guerre civili perché poi le guerre civili sono ovviamente un capitolo a parte nella storia dell'esercito romano perché un capitolo a parte beh perché io l'ho nel nel mio libro l'ho chiamato Marte allo specchio perché nelle guerre civili si confrontano eserciti armati equipaggiati addestrati molto spesso nello stesso modo quindi che che si conoscono a memoria sanno come combatteranno sanno come schiereranno le loro truppe sanno quanto male possono farsi materialmente quanto sono bravi no quelli che hanno di fronte e quindi è tutta un è tutto un grande capitolo della storia militare romana che andrebbe cioè andrebbe che va studiato un po a parte va approfondito a parte per quello che riguarda il confronto con i barbari con i nemici esterni diciamo così anche qui distingue fondamentalmente tra appunto i barbari e invece i sassanidi e gli eredi dei parti quindi che sono hanno invece un esercito ben strutturato ma per quello che riguarda la grande strategia contro i nemici esterni il grosso problema di roma è la la mancanza di truppe sufficienti a coprire l'intero l'intera frontiera l'intero limes per cui no come si dice se cerchi di difendere tutto non difendi nulla e i romani se ne rendono conto a poco a poco non so se giuseppe su questo concorda con me ma all'inizio si tenta una difesa a cordone dell'imes poi ci si rende conto che se non si schierano delle riserve in in posizione arretrata e questo è una scelta perdente perché appunto la lorda barbarica di turno prima o poi trova il punto debole non nella difesa a cordone penetra e poi è un guaio andare di dietro inseguirli mentre scorrazzano nel territorio imperiale quindi bisogna avere delle forze di riserva schierate in una seconda battuta diciamo così e lì diventerà più importante il ruolo della cavalleria già giuseppe faceva accenno al fatto che sotto gallieno abbiamo già testimonianza di un esercito di cavalleria sostanzialmente ma il ruolo della cavalleria è fondamentale non tanto per la sua capacità di risolvere una battaglia campale qui magari ci torniamo ma è fondamentale perché ci si muove in fretta quando si deve dare la caccia a un nemico elusivo all'interno magari del proprio territorio questa è una cosa che sempre più frequentemente avviene dal a partire dalla fine del secondo secolo terzo secolo quindi ecco per quello che era la grande strategia direi che queste sono le cose fondamentali per quello che riguarda la la tecnica di combattimento questo questo tendenza alla chiusura anche se attenzione ci sono delle fonti però che continuano a testimoniare della della capacità dei legionari di combattere singolarmente destreggiandosi diciamo quei duellando persino per quello che riguarda la battaglia di strasburgo io vi leggo due righe giuro due non vi annoio di ammiano marcellino che come sapete è finalmente un'altra grande fonte storiografica dopo un periodo un po nero no della della storia della storia della storiografia romana quindi che ci racconta le guerre di di giuliano e non solo ma insomma in maniera anche letterariamente eccezionale che parlando della battaglia di strasburgo e di come combattono i legionari romani in questa battaglia dice appunto eh io intanto qua mostro gli schierami questa stava sta parlando proprio della della legione dei primani che erano la riserva tenuta in seconda linea da giuliano che gli risolve lo scontro decisivo al centro contrattacca il cuneo eh degli alamanni e riesce a sbaragliarli e dice che stavano beh inchiodati al suolo saldi come torri questo è il vecchio il vecchio modo di rappresentare la fanteria pesante che non non si fa muovere dal dal nemico però ehm rinnovando lo scontro con coraggio ancora maggiore attenti a schivare i colpi come dei mirmilloni i mirmilloni sono dei eh scusate eh i gladiatori i gladiatori i gladiatori veniva in mezzo a Spartaco sono dei gladiatori un tipo di gladiatori ehm e quindi come dei mirmilloni pronti a ferire con il gladio sguainato i fianchi dei nemici che l'ira troppo accesa lasciava scoperti quindi questi legionari che appunto come gladiatori significa che sono addestrati al duello i gladiatori duellano uno contro uno e stanno pronti a guardare a osservare il momento giusto in cui i germani magari fanno un gesto troppo ampio perché alzano la loro spada e quindi scoprono ascella a fianco e lì entrano di punta con il gladio beh questo è notevole perché qualcuno di voi degli ascoltatori potrebbe dire vabbè ma è letteratura Ammiano può recuperare da letterato no un modello di generazione più antico sì e questo purtroppo possiamo anche dubitarne però eh questa è la nostra fonte su una battaglia della seconda metà del quarto secolo lui ancora descrive attenzione Ammiano era un militare aveva un'esperienza da militare ancora descrive i legionari che duellano in qualche modo comunque che sono pronti con il loro gladio ad approfittare della distrazione della del nemico e pronti a entrare nella sua guardia direbbe uno schermidore quindi per la tecnica di combattimento eh bisogna stare attenti perché molte tecniche antiche addirittura tardo repubblicane continuano a vivere anche in età tardo imperiale ehm poi scusami tu mi chiedevi delle tecniche di assedio beh qui chiaramente il discorso è beh vastissimo io direi anche qui per per cercare di dare soltanto delle idee importanti eh le tecniche di assedio romane sono fondamentali eh per tutta la fase di espansione dell'impero soprattutto sono tecniche che Roma eredita dal mondo ellenistico in questo caso i romani veramente sono gli eredi diretti della grande cultura poliorcetica eh alessandrina ed ellenistica perché non dimentichiamoci che in questo appunto già Alessandro Magno a a tiro e i suoi i suoi successori avevano fatto cose eccezionali insomma no Demetrio Poliorcete insomma voglio dire c'era gente che aveva eh si era guadagnato soprannome sul campo per la sua capacità di assediare quindi i romani non devono inventare niente questo mi sembra una cosa importante mentre in altri campi sono degli innovatori magari eh un campo tattico la creazione della della triplex aces la riserva eccetera beh in campo poliorcetico non devono inventare niente qual è però la loro grande capacità è che sono degli eccezionali organizzatori dello sforzo bellico anche durante gli assedi quindi costruiscono linee di circonvallazione e controvallazione in un tempo magari che che non che ecco che non lasciava respiro ai loro nemici no talmente veloci sono a fare queste opere che i nemici si trovano continuamente eh privi della capacità di 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 avere iniziativa no in nel corso delle operazioni non solo ma poi dimostrano una capacità ingegneristica straordinaria mi ricordo che forse tu avevi delle foto di di Masada eh io quando faccio il mio corso di storia militare antica dico sempre ai miei studenti ragazzi la rampa d'assedio costruita dai romani a Masada è una delle cose più straordinarie ecco che si vede benissimo in questa in questa fotografia eh dell'arte della guerra antica perché pensare che questi per per conquistare una una posizione fortificata evidentemente quasi imprendibile ma del tutto secondaria nella nel discorso strategico dell'impero in quel momento questi erano gli ultimi ribelli insomma uno poteva lasciare anche lì qualche anno eh finché non in qualche modo non morissero di di fame o di noia invece i romani costruiscono o di suicidio o di suicidio appunto risolvono il il problema della dell'assedio che era giudicato irrisolvibile da chi aveva costruito quella fortezza appunto riuscendo a realizzare una rampa per portare la torre d'assedio a contatto delle mura che è una cosa veramente stupefacente solo pensarlo è stupefacente non so se Giuseppe appunto io sono tutte le volte che la la vedo lo rimango impressionato ehm ecco questo volevo dire per cui non inventano nulla ma portano l'arte dell'assedio alle sue estreme conseguenze diciamo così no nel senso che che fanno cose che nessuno prima di loro era riuscito a fare sì io vorrei tornare sempre su invece le tecniche d'assedio perché io ho fatto passare varie immagini eh sulla poliorcetica ecco qui ehm che tra parentesi volevo dire alla chat che sono state tutte realizzate eh disegnate fondamentalmente dallo stesso nostro ospite Giuseppe Cascarino e quindi se ne volete poi vedere delle altre potete benissimo trovare eh trovarle sul suo libro eh apro chiudo una parentesi io in descrizione di questa live ho messo anche vari ehm diciamo riferimenti bibliografici anche dei nostri ospiti per eh diciamo al corollario di questa di questa live ecco magari adesso faccio passare un po' eh di immagini magari se se puoi darci due due descrizioni possiamo commentarli possiamo commentarli io diciamo ho proposto questa serie di immagini tanto per far per fare un po' di di nomenclatura della tecnica degli assedi non so se se vuoi cominciare dalla prima adesso non ricordo perché questa non è la prima dalla scala ecco la scala è la più banale però eh bisogna fare le le scale per salire no sul muro di una città nemica e farle anche bene perché altrimenti eh allora voi immaginate in tutti questi film un po' tipo cappa e spada quando c'è un assedio si vedono questi che salgono con delle scale fatte un po' così tipo Ikea no alla alla bella e meglio e poi vengono respinti in realtà le scale venivano costruite con una tecnica eh sopraffina molto particolare vedete anzitutto erano ben eh come dire eh fermate a terra con dei pioli poi c'erano dei dei supporti per non farle rovesciare lateralmente e poi erano costruite un po' come le scale dei pompieri di oggi ho fatto il pompiere quindi un po' ho questo questo eh in maniera tale che entrasse una dentro l'altra e insomma era molto difficile uno scale pesanti difficile da ributtare giù e qui tra l'altro queste scale sono descritte da Apollo d'oro di Damasco che fu l'architetto di Traiano e poi successivamente di Adriano ed era tanto bravo che Adriano lo fece uccidere ma eh Apollo d'oro era l'architetto che costruì il Pantheon e il famoso ponte sul Danubbio il grande ponte lungo più di mille metri sul Danubbio quindi era eh un vero e proprio ingegnere no lo chiameremo oggi un ingegnere di grandissimo spessore e che ha scritto anche un testo sugli assedi e sulla tecnica degli assedi al quale io poi ho diciamo largamente attinto. Allora questo era la prima ehm primo modo per salire sulle mura di una città poi ce n'erano ovviamente anche altri quando questo non era possibile si poteva per esempio scavare una breccia eh non non gastone una breccia nel senso di una ehm eh come dire foratura e cercare di forare il muro scalzando le pietre e per fare questo ovviamente per difendersi dalle dai 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 sassi dai dal liquido bollente che veniva lanciato dalle mura c'erano vari vari sistemi questo si chiamava eh eh vinea perché assomigliava un po' al agli impianti dei vigneti cioè erano semplici pelli rese eh ininfiammabili che coprivano il tetto di chi poi sotto doveva lavorare allo scalzamento delle pietre e poi ovviamente per passare alla misura più larga questo si chiamava musculus cioè piccolo topo eh tradotto in latino veniva fatto scorrere sul rulli avvicinato al muro ed era una specie di di casa matta protetta con tegole con tegole di ceramica pelli e una specie di materasso che serviva per ammortizzare i i diciamo i i colpi più pesanti che venivano dall'alto e ehm quindi mentre venivano eh messe queste queste opere di assedio sotto queste coperture i legionari con con la dolabbra quindi col piccone tipico del del legionario scavavano scalzavano le le pietre questa è un'altra tecnica consiste consisteva nel eh scavare una specie di riquadro mettere una tavola di sostegno superiore quella che si vede in alto sorretta da eh puntoni di sostegno e poi quando il lavoro era ben consolidato si dava fuoco ai puntoni crollava tutto l'impianto e veniva giù tutto il muro ecco questo tra l'altro era molto comodo perché venendo giù tutto il muro creava una specie di di rampa d'assalto che favoriva l'ingresso l'ingresso del diciamo del del degli aggressori nella nella città ho una curiosità e questa tecnica era relativamente lenta o veloce cosa voglio dire nel senso che eh venivano cosparsi di particolari combustibili questi pioli di legno quelli in verticale per essere bruciati più velocemente e far crollare tutta l'impalcatura oppure serviva molto tempo e quindi questo era un problema da per fare eh la breccia mh e un vantaggio invece per le difese eh della città assediata ma la città assediata ovviamente aveva anche le sue contromisure nel senso che di solito dietro a questo muro quando vedeva che si realizzava questo tipo di attacco realizzava un altro muro ne costruiva un altro dietro uno di questi lo fece ammasata solo che poi eh lo costruirono in legno i romani gli diedero fuoco e alla fine non servì neanche quello comunque diciamo che allora la benzina non c'era quindi bisognava appiccare il fuoco con con la pece con altri combustibili molto più lenti però i romani non avevano fretta eh i romani prima o poi ti venivano a prendere no come per masata quindi anzi il fatto di accendere diciamo di dar fuoco dava tempo anche eh ai ai minatori no ai genieri di allontanarsi o questo che vedete si chiama embolon in greco vuol dire cuneo è una forma di protezione io adesso non so se ti ho mandato anche l'immagine della colonna traiana eh no mi sa credo di non avertela mandata no 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 ecco compagno la colonna traiana e uno infatti aspetta no forse c'è però aspetta e vai al prossimo no eccolo ah sì giusto ecco questa quella prima quell'immagine di prima ecco questo vedete questa è una cosa che per molti studiosi della colonna ehm è stata così di dubbia interpretazione che cosa sono questi tricicli questi tricicli ecco non sono dei tricicli in realtà sono dei cunei con le ruote che venivano eh avvicinati al muro qui parliamo del muro di una città d'Acica che viene assediata da Traiano venivano assediate vedete che dietro ha dei eh degli spuntoni di legno che servono per essere piantati nel nel terreno un po' come eh i bracci i bracci dei cannoni no del degli affusti dei cannoni che servono per inchiodarli al terreno e eh in maniera tale che tutto quello che veniva buttato dai difensori dalle mura rotolava intorno a questi cunei senza creare creava praticamente dietro di sé un cono di sicurezza dove eh gli diciamo gli aggressori non potevano essere colpiti né da pietre né da botti perché vedete qui lanciano delle botti delle botti probabilmente pieni di piene di pietre o di materiali eh di di vario tipo eh e quindi questi cunei era il modo consistevano nel diciamo nell'ultimo modo per avvicinarsi a un muro senza essere colpiti e poi se fai vedere il disegno io ho fatto anche un disegno di come tecnicamente potevano essere fatti ecco no no prima prima di eh esatto ecco questo era più o meno l'aspetto che poteva avere uno di questi emboli cioè cunei cunei d'assalto quindi erano protetti sotto eh potevano avvicinarsi anche degli incursori che a quel punto si trovavano sotto le mura senza essere stati bersagliati da da proiettili e poi possiamo andare avanti eh c'era la riete mi sembra ecco questa questa è una macchina utilizzata praticamente in tutti gli assedi dall'assedio di Veio fino alla scoperta della polvere da sparo e lo schema è praticamente lo stesso c'è una struttura di sostegno alla quale viene appesa viene appesa una lunga trave con una testa tradizionalmente a forma di ariete che serve per distruggere il muro quindi viene eh portata avanti e indietro no da un certo numero di uomini eh con colpi sempre più forti fino a quando poi il muro viene sbriciolato chiaramente questa è solo la struttura perché poi veniva protetta eh per esempio nell'assedio di Gerusalemme sembra che fosse protetta addirittura da lastre di ferro quindi per impedire che fosse incendiata o bersagliata in qualche modo e poi eh un'altra macchina che veniva usata eh praticamente sempre negli assedi era la turris ambulatoria cioè la torre mobile è una torre quella che vedete è una struttura eh semplice che poi chiaramente veniva ricoperta con varie forme di protezione serviva per avvicinarsi al muro magari al piano inferiore era montato una riete che intanto dava un po' di botta al muro eh per vedere se veniva giù ma soprattutto permetteva a diciamo agli aggressori di eh bersagliare il nemico dall'alto quindi doveva essere più alta delle mura questa era la regola più alta delle mura ben protetta e dare in modo a tiratori arcieri venivano montate addirittura delle macchine da lancio tipo scorpioni eh di tenere i difensori lontani dal dal muro e contemporaneamente ovviamente sotto al primo piano lavorava la riete per per sfondare sfondare il muro credo che mi abbia mandato anche gli scorpioni se non ricordo male adesso provo a vedere se ah sì se questi se no 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 questo no questo è un è un arpione che serve per demolire ecco guarda andiamo in ordine così c'è così ci arriviamo allora questa è una sambuca che non è non è un amaro non è la sambuca la sambuca era praticamente un è una specie di eh condotto protetto eh che aveva un contrappeso fatto in pietre che veniva avvicinato direttamente al muro quindi era protetto a un certo punto è un gate è un gate è un gate d'imbarco no veniva portato direttamente sotto il muro della della città e quelli si trovavano improvvisamente degli aggressori no e non era facile da bisognava incendiarla bisognava creargli qualche problema è lo stesso questo si chiama tolleno eh ed era una specie di giostra per cui si preparava a terra poi c'erano degli uomini che facevano da contrappeso il il perno è girevole quindi questi in pratica erano in grado di depositare così graziosamente un canestro di attaccanti in qualsiasi punto del muro anche questo era uno dei diciamo degli delle macchine che venivano usate negli assedi e verranno usate anche nei secoli successivi perché anche eh in epoca di impero romano d'oriente eh vedremo delle eh delle incisioni eh il famoso aiutami Gastone quello di Madrid eh non ricordo come si chiama lo lo filizze di Madrid lo filizze il con il colgio del filizze ci sono delle incisioni in cui vengono rappresentate varie scene di battaglia eccetera in cui si vedono tutte queste macchine sono le stesse le stesse che usavano i romani con i romani vengono utilizzati anche dai romani d'oriente ma in epoca quasi medievale sì sì esatto in piena epoca medievale anzi lo filizze di Madrid esatto e questo è un altro giochino simpatico che serviva per tirare giù eh i parapetti no le mura le pietre eh stando a comoda distanza e si chiamava arpione arpago e insomma se ne inventavano veramente di tutti i colori eh questo era l'osservatore era una specie di drone dell'antichità ahimè non era mobile però permetteva a un osservatore appunto di essere portato in alto e di vedere cosa succedeva all'interno della città assediata e qui parliamo parliamo di armi queste sono i gastrafete ora Gastone prima accennava all'eredità ehm eh ci sia la questione aggiungi anche tu ovviamente sì sì eh diciamo perché ci stiamo addentrando verso insomma l'impero romano è ma è dura eh parlare di tante cose in poco tempo comunque lo so questo si chiama Gastrafete è inventato in epoca ellenistica probabilmente faceva parte dell'armamentario di di Alessandro quando assedia la città di Tiro insomma tutti ed era ehm praticamente un arco una balestra una sorta di balestra che veniva caricata vedete quella specie di di omega rovesciato in alto lì ci si appoggiava ci si appoggiava con la pancia per questo si chiama Gastrafete no eh 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 fatto per la pancia ci si appoggiava quindi con tutto il peso si mandava giù eh il diciamo i bracci del dell'arco poi c'era un cricchetto che bloccava e quindi si metteva la vedete la sulla destra la il Gastrafete in posizione di sparo e questo era abbastanza banale e poi chiaramente sempre come eredità ellenistica va bene questa compare sulla lonna Traiana è il primo esempio di artiglieria mobile eh nel senso che è una macchina di lancio eh trainata ipotrainata quindi una specie di di piccolo semovente eh semovente di artiglieria è un precursore che permetteva all'esercito romano di disporre di un'arma diciamo in grado di disturbare il nemico a distanza notevole ma mobile quindi poter essere un po' come faceva Napoleone no che riusciva a piazzare i suoi cannoni nei punti da lui ritenuti più strategici ecco abbiamo questo esempio eternato dalla dalla colonna Traiana o non mi ricordo se ti ho mandato anche uno schema di scorpione eccolo questo è lo scorpione anche lui di eredità ellenistica non l'hanno inventato i romani i romani lo hanno come facevano i giapponesi lo hanno studiato lo hanno rifatto lo hanno migliorato a differenza dei giapponesi non hanno fatto una vera e propria arte eh e questa era un'arma in grado di rilanciare un giavellotto a una distanza superiore ai 250 metri quindi al di là di ogni freccia quindi con un'arma di questo genere eh l'esercito romano aveva una superiorità tattica eh notevole perché era in grado di tenere lontano il nemico fin quando lo voleva è un'arma che viene usata ancora a lungo eh perché come sicuramente Gastone confermerà nell'assedio dei Goti a Roma contro Belisario eh viene raccontato un un aneddoto no di un Procopio ci racconta l'aneddoto di un Goto che sale su un albero per sbeffeggiare i romani ah voi vi siete nascosti dietro le mura venite giù se avete coraggio allora faceva la pernacchia insomma come faceva loro la pernacchia sì 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 ed era tra l'altro armato di corazza allora scrive Procopio che a un certo punto dalle mura di Roma partì un colpo di scorpione che lo inchiodò all'albero inchiodò con tutta la corazza a quel punto eh dice anche che da da quel momento i Goti stettero ad almeno 300 metri 400 metri di distanza dalle mura di Roma posso sì a parte scusa volevo dire una cosa perché ovviamente confermo eh Procopio si sa anche dove è tra Porta Pinciana e Porta Salaria quindi nel tratto di mura a Corso Italia oggi per chi conosce ah ecco a Corso Italia che viene inchiodato il povero Goto ma una cosa adesso volevo anche sapere la tua opinione mi sono sempre posto questo problema questa artiglieria romana no chiaramente fa effetto anche alle volte viene portata in battaglia campale viene utilizzata non soltanto nel corso di assedi quindi piazzandola con una certa cura quindi aveva un effetto ma quanto secondo te era l'effetto morale sul nemico in quel proprio l'esempio del Goto è perfetto e quanto invece l'effetto diciamo pratico effettivo cioè quanto quanto quanti uomini riuscissero a uccidere perché io mi sono sempre chiesto ma insomma quanti scorpioni dovevano avere e e usarli contemporaneamente per rendere efficace uno sbarramento di artiglieria chiamiamolo così sul campo di battaglia possibile che ne avessero così tanti perché ogni ogni dardo di uno di uno scorpione sì ma può uccidere un paio di uomini se li prende proprio in fila per per quanto possa essere potente no il suo il suo lancio quindi mi stavo chiedendo forse veramente era più l'effetto così di morale di di spaventare il nemico che non era abituato a questo tipo di armi che si vedeva arrivare questi dardi da due trecento metri quando pensava di essere al sicuro appunto come il Goto che rimane inchiodato mentre perché pensa di essere al sicuro perché come numero effettivo di perdite causate sul campo di battaglia non credo potesse essere paragonabile a quello di un di un'artiglieria napoleonica insomma che ha a mitraglia effettivamente però è un dubbio che mi sono sempre portato dietro assolutamente cioè l'effetto non era cioè non era una mitragliatrice quindi in grado di falciare letteralmente no di distruggere interi battaglioni no come avveniva la prima guerra mondiale l'effetto era di deterrenza era quasi era quasi un'arma psicologica era quasi un'arma terroristica e un grande esperto di questo genere di armi era Vespasiano Vespasiano quando era comandante della seconda legione Augusta in Britannia lui contribuisce a come dire stroncare una ribellione assediando un un centro che era diciamo difeso dai britanni dai britunculi lanciando eh lanciando questi questi proiettili noi questo lo sappiamo perché negli scavi archeologici che sono stati fatti alcuni anni fa in questo sito hanno trovato degli scheletri e uno di questi scheletri era quello di un poveraccio che è stato colpito da uno di questi proiettili ed è stato colpito nella schiena quindi hanno in pratica si vede adesso io non ce l'ho portata di mano ma se se volete eh è è probabile no vi faccio vedere la foto si vede la punta del proiettile di eh di scorpione che gli eh in pratica che gli è rimasta nella spina dorsale gli ha spezzato in due la spina dorsale ed è rimasta lì e beh chiaramente l'effetto non era quello di eliminare un nemico perché il nemico singolo si elimina in tanti modi l'effetto era quello di dire guarda non ti puoi nascondere da nessuna parte prima o poi ti vengo a prendere quindi aveva non solo un effetto tattico di tenere il nemico a distanza ma anche quello di impressionarlo e dire io dispongo di armi eh per le quali tu non hai altra scelta che arrenderti quindi era un effetto eh psicologico assolutamente non non tattico no no ecco infatti mi mi confermi quello che che pensavo diciamo sono contento di di questo io volevo dimmi dimmi scusa è una cavolatina però volevo aggiungere un piccolo fan fact per la chat che è una cosa similare agli scorpioni se non penso che la fotocopia in versione fosse anche più grande è stata ricostruita utilizzata poi per invece credo l'ultima stagione del trono di spade per come arma contro i draghi e quindi questa cosa anche molto interessante come ritorna effettivamente della dell'artiglieria eh diciamo romana in anche anche nel fantasy prego volevo aggiungere una cosa no scusa giuseppe se prego prego no no una cosa a tutta questa ormai ricostruzione devo dire di nuovo ho imparato un sacco sulla poliorcetica una cosa che non abbiamo citato è la guerra di mine che invece era tu hai parlato giustamente della delle brecce che venivano create nelle mura però a livello della di superficie no invece una una parte della guerra d'assedio anche questa non inventata dai dai romani che durerà poi fino all'assedio di costantinopoli ma oltre insomma anche oltre è proprio di scavare gallerie alla base delle mura e poi utilizzare un sistema simile a quello che descrivevi tu no cioè puntellare e dar a fuoco alle alle travi di di sostegno far crollare eh le mura appunto ehm facendo facendo praticamente crollare la la cavità che avevano scavato al di sotto delle mura e questa è una cosa di cui esistono anche delle testimonianze archeologiche eccezionali a dura europos no nella frattetta dura europos ci sono delle delle testimonianze archeologiche straordinarie su questa guerra di mine tra romani e sassanidi appunto mi sa che li andò male ai romani se non erro quindi nello scavo i due europos va a finire male per i romani però sapevano farle entrambi ecco e questo era uno dei modi per più usati per far crollare le mura di una fortezza nemica esatto la guerra di mine è accompagnato tutta la storia fino a cento anni fa cioè eh guerra di mine significa scavo una galleria sotto le mura una volta era o per entrare direttamente no entrare direttamente dentro la città oppure per far crollare le mura al che poi il diciamo l'opponente faceva una contromina a sua volta una galleria per cercare di incontrare questa mina e scacciare il nemico e mi sembra che a dura europos hanno trovato negli scavi e i resti di soldati sia romani sia persiani che si sono affrontati nel praticamente nel nel sottosuolo eh cercando di avvelenarsi a vicenda eh incendiando varie miscele di zolfo cioè cercando proprio di di far scappare il nemico per per asfissia per avvelenamento e che danno l'idea di come fossero dure e difficili le operazioni prima dell'arrivo delle armi del cannone no delle armi da fuoco eh prendere una città ben difesa con mura spesse con riserve per resistere a lungo era un'opera estremamente difficile e e qui torniamo al discorso che abbiamo fatto prima della difesa in profondità nel principio della difesa in profondità i romani a un certo punto sono costretti non più a difendersi sulla linea del confine perché non è possibile sono attaccati da troppi nemici contemporaneamente magari i germani i persiani attaccano contemporaneamente allora sono costretti ad adottare la cosiddetta difesa in profondità che consiste nell'avere eh dei presidi nell'interno ben fortificati con truppe eh specializzate nell'assedio e contro assedio e poi eh e poi da qui nasce quello che che sarà poi l'esercito tardo imperiale è un esercito mobile che prima è solo quello al comando dell'imperatore poi Roma crea tanti eserciti mobili regionali che si muovono per andare a ehm come dire eh tappare le varie falle che si aprono man mano che si aprono nel frattempo però ci sono le truppe locali i cosiddetti limitanei che presidiano queste eh queste località queste fortezze in attesa che arrivi l'esercito l'esercito mobile e eh e qui e questo spiega perché per esempio nelle guerre con i persiani nel tardo impero è tutta una guerra di assedi perché eh le città si rinchiudono in assedio i romani fanno lo stesso attaccano a loro volta alle città persiane che si difendono con tecniche di assedio e Ammiano ci descrive una guerra con i persiani fatta praticamente solo di assedi cioè le battaglie campali ci sono per carità ma sono ma sono poco significative quello che veramente toglie risorse fibra sfianca sono questi continui assedi e contrassedi con macchine enormi no che poi vengono distrutte ricostruite insomma eh è veramente una sfida tecnologica eh molto molto importante un'altra macchina che usavano erano per esempio eh le catapulte le catapulte non lanciano frecce o giavellotti ma lanciano pietre e noi ne conosciamo di diversi eh di esempi di di uso di di catapulte ecco bravissimo questo è l'onagro l'onagro o onagro che è il nome di un mulo viene chiamato così perché la la botta che fa quel braccio contro il il paracolpi è talmente violento che sembra il calcio di un mulo no quindi si chiama onagro per questo anche questa è una macchina basata sul principio della torsione vedete c'è un unico fascio che viene stretto a morte praticamente e il braccio viene tirato indietro all'estremità viene caricato il proiettile poi quando si rilascia si rilascia il proiettile e questo prende prende chiaramente una velocità iniziale formidabile ma per esempio nell'assedio di gerusalemme del 70 dopo cristo giuseppe flavio che pura inizialmente fa parte del nemico poi passa con i romani e racconta delle diciamo degli episodi molto interessanti molto dettagliati dice che questa macchina era in grado di lanciare proiettili del peso di un talento cioè circa 30 chili a distanza di 300 metri e dice che i difensori di gerusalemme quando si videro bersagliati da queste macchine dice tra le varie legioni c'erano quattro legioni che assediavano gerusalemme quella più fornita era la decima la decima legione aveva delle macchine enormi che lanciavano dei colpi giorno e notte quindi bombardavano gerusalemme giorno e notte continuamente e dice che di notte i difensori si erano abituati a vedere arrivare il proiettile gridando arriva il bambino no e tutti si scansavano trovavano trovavano rifugio eccetera i romani che erano un po cattivelli a quel punto cominciarono a dipingere i proiettili di nero di color col color nero in maniera tale che non si vedevano neanche arrivare quindi torniamo al discorso di prima l'arma d'assedio l'arma da lancio non è un'arma decisiva per la conquista di una città ma è un'arma psicologica che tende a distruggere il morale del difensore e a porre l'attaccante in una condizione psicologica vincente allora io dato che fra poco deve deve staccare anche gastone vorrei chiedere due parole a lui proprio inerenti guarda come 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 supponevo è talmente interessante è talmente vasto bisognerà farne un'altra se giuseppe è d'accordo però se mi date un minuto perché giuseppe ha già detto una cosa importantissima sulla difesa in profondità allora purtroppo non abbiamo tempo adesso di esaminare veramente con con il dovuto la dovuta attenzione il sistema diciamo tardo imperiale proto bizantino però una cosa secondo me posso dirvi ovvero che questa idea della difesa in profondità che si va inucleando a poco a poco tra diciamo fine secondo terzo secolo e poi dopo il disastro di adrianopoli di cui tutti sappiamo viene veramente trasformata in un razionale sistema difensivo a cura di teodosio primo dopo adrianopoli ed è testimoniato con grande precisione della notizia dignitatum ed è veramente un sistema straordinario perché è su tre livelli ed è gestito in maniera veramente scientifica direi per cui ci sono i vecchi limitanei che adesso sono truppe di frontiera agli ordini dei comandanti delle singole dei duces delle singole province ci sono dei primi eserciti diciamo così di intervento rapido che sono agli ordini dei magistri militum di teatro cioè per il liricum per tracias per orientem e poi ci sono gli due eserciti di manovra agli ordini dei magistri militum presentale vicino a costantinopoli diciamo insomma stanziati a costantinopoli che sono un terzo livello difensivo e sono due non c'è sono due diversi per due motivi primo perché ormai hanno capito a questo punto che la misura di circa 20.000 uomini è ideale dal punto di vista logistico per manovrare per muovere senza troppi impedimenta no quindi 20.000 e non di più secondo perché la situazione strategica prevede la possibilità che si manifestino contemporaneamente dei problemi gravi sul fronte del danubio e sul fronte delle ufrate perché capitava che se anche senza mettersi d'accordo i nemici potessero attaccare contemporaneamente in due fronti che erano diciamo così entrambi lontani da costantinopoli alcune centinaia di chilometri e quindi ci volevano in caso di estrema emergenza due armate di manovra capaci contemporaneamente di intervenire in direzioni diverse questo sistema appunto di tre livelli difensivi è straordinario poi in certi casi funziona in certi meno come sempre nelle nelle guerre alle volte i nemici sono e gli uni ad esempio riescono a mettere prossa difficoltà ma la concezione è direi proprio il punto d'arrivo di una strategia difensiva dell'impero che stasera abbiamo ripercorso rapidamente che parte da augusto e davvero io direi arriva all'età proto bizantina certo allora facciamo così magari dedicheremo un'altra puntata insieme a te ovviamente castone e magari anche giuseppe cascarino all'esercito a questo punto dell'impero romano d'oriente che sarebbe molto interessante perché sennò come hai detto avete detto anzi giustamente voi la roba da dire è veramente ma e va a finire che insomma si sempirebbe almeno una live probabilmente di un giorno intero quindi questo è quanto quindi questo punto direi di concludere qui io vi ringrazio molto vi ringrazio giuseppe cascarino e anche è gastone breccia ringrazio voi che siete rimasti qui ad ascoltarci e a questo punto vi do appuntamento alla prossima live ancora qui su paresia arrivederci a tutti arrivederci arrivederci grazie a tutti